La perla erotica, si parla di Eros con la preziosa perla. Ben ritrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di RVL La Radio. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo a cui dedicherò la puntata di questo mese nel mio canale YouTube, Fame Blu di Viola di Grado. Dopo aver perso il fratello gemello, un'italiana si trasferisce a Shanghai. Lì incontra una ragazza enigmatica, Xu. Anche Xu è in fuga da un passato turbolento, accomunate da una solitudine che assomiglia ad una fame implacabile. Le due ragazze si avvicinano sempre di più l'una all'altra, divise tra il bisogno di affetto e la tentazione oscura di farsi divorare reciprocamente da Eros. Parte essenziale del loro rito amoroso è mordersi, appropriandosi l'una dell'altra. In questa storia la ricerca dell'amore è un percorso vertiginoso in se stessi che annienta ogni tabù e che porta a galla i sogni più potenti. Era una fame oscura, così piena di timore e di speranza da sembrare religiosa, assoluta come il primo pianto quando si è spinti fuori dall'utero, costretti a venire al mondo. Se amate le storie estreme e carnali non perdete questo podcast, lo potete trovare nei racconti di Perla su YouTube. Vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima puntata. La Perla Erotica è anche su Instagram. Cerca la preziosa perla.